Gesù rimase sull'altare della croce per tre ore in un mare di dolore e di disonore nella più desolante solitudine. Il rito sacrificale mancava ancora alla conclusione dovevano essere adempiute le parole di Gesù. Per questo mi ama il Padre, perché io do la mia vita, nessuno me la toglie, ma io la do da me stesso. Questo è il comandamento datemi dal Padre. Il dono della vita doveva essere l'ultimo e più doloroso atto di sacrificio. Sapendo Gesù che tutto era compiuto, affinché si adempissero le scritture, disse, ho sete, c'era un vaso pieno di aceto. Quelli messero una spugna piena di aceto su una canna, gliela accostarono alla bocca. L'Evangelista prosegue, quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, tutto è compiuto. Matteo e Marco ci dicono che Gesù pronunziò questa espressione come compendio, chiusura della sua vita terrena. Davanti agli occhi di Gesù tornano ancora una volta le tappe della sua vita, Betlemme, Nazareth, la traversata della Galilea, della Giudea. Ora tutto è passato. Agli occhi degli uomini tutto è finito in un fallimento, ma proprio questo fallimento è il più strepitoso dei successi, perché l'adempimento della missione affidategli dal Padre. La buona novella è annunziata, il peccato è spiato, la grazia è meritata. La Chiesa fondata, le sorgenti della vita e delle benedizioni sono aperte per scorrere per tutta la terra e per tutti i popoli, per sempre. Consumatum mest e quinti come una solenne ita missa est, che dall'altare della croce annuncia la fine del grande sacrificio. Ancora una volta Gesù alza la voce Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Questa sua ultima frase suona come un grido di rispresa dopo la notte spaventosa dell'apparente abbandone di Dio. Nell'abbandono non aveva dubitato della potenza dell'amore del Padre e ora nelle mani di Lui pone come sacrificio accetto se stesso alle lopere affidate e riportatela coerentemente a termine. Esse adempisse la sua volontà. Ora gliele sostituisce, li affida fiduciosamente alla custodia del Padre per riceverle nuovamente da Lui nella risurrezione. L'ultima preghiera di Gesù è uno splendido esempio di preghiera finale della vita. Per tutti i tempi, dopo di Lui, milioni di milioni di uomini l'hanno innalzata al termine della propria vita. Se vogliamo anche noi poter dire un giorno con Lui tutto è compiuto, non dobbiamo conoscere nessun altro programma che il suo ecco che vengo per compiere, o Dio, la tua volontà. Dobbiamo come Lui perseverare nella realizzazione di questo programma, nonostante tutte le fatiche, le lotte, le delusioni e seguire il riposo in cui potremo ancora una volta avere fiducia nell'amore del Padre. Questo è il nostro cammino, questa è la nostra speranza. Con la morte di Gesù fu redento dalla maledizione l'uomo e fu santificato nell'ultimo momento e più amaro strazio della nostra vita terreno, la morte che ci attente. O Gesù, con Te vogliamo morire, con Te vogliamo venire nel Tuo paradiso.